Si è dimesso il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci. Così il 25 settembre si voterà non solo per le politiche che riguarderanno tutto il territorio nazionale, anche per le regionali. Le dimissioni di Musumeci sono state annunciate con un video su Facebook. La scadenza della legislatura era prevista poco più di un mese dopo il voto nazionale, a novembre. In vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, due importanti appuntamenti sono previsti nel mese di agosto. Dalle 8 alle 20 del 12 e del 13 agosto e dalle 8 alle 16 del 14, presso il Viminale, dovranno essere depositati i contrassegni dei partiti o movimenti. A seguire, dalle 8 del 21 agosto alle 20 del 22 agosto, sarà possibile presentare le liste e le candidature. Allo scopo di agevolare la conoscenza da parte dei cittadini, delle forze politiche e di tutti gli altri operatori interessati, dei termini e delle condizioni di tutte le operazioni che precedono l'appuntamento elettorale di settembre, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha realizzato una pubblicazione contenente le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature all'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nelle circoscrizioni regioni del territorio nazionale. La pubblicazione è consultabile online sul sito interno.gov.it. In Sicilia, gli elettori chiamati al voto saranno oltre 4 milioni.